Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di MondiCubi Ragazzi sto tornando a casa col mio fedele distriero come vedete Eh si E viaggia abbastanza velocemente questo tizio Oddio qua c'è un glitch ok E ragazzi bisogna portare questo cavallo in un posto sicuro E che posto c'è più sicuro del nether? Eh si ragazzi Infatti l'avevo accennato nello scorso video Un utente mi aveva scritto nei commenti Cosa hai detto? Nel nether? Eh si lo porteremo nel nether così siete trasportato Andiamoci anche noi Forza su Ok eccolo qua il nostro cavallo Oddio ci sarà un po' di lag Occhio non cadere nella lava col cavallo perché sarebbe un danno doppio Ok E niente ragazzi andiamo appunto nel nostro giardinetto Nel nostro bel giardinetto E andremo appunto a lasciare il nostro cavallo lì Perché appunto si troverà a suo agio nel nether Ne sono sicuro Ok Niente ragazzi questo è appunto il posto dove terremo il nostro cavallo Ehm Niente spero che non faccia dei casini Vero cavallo che non farei dei casini te? Vero? Vero? Bene Allora vado a prenderti un regalo Rieccomi cavallo ti ho portato un regalo Ti ho portato un'armatura Adesso salgo un attimino su di te E ti faccio indossare le armature C'è quella in diamante o c'è quella in oro? Qual è che ti sta meglio? Ti sta meglio a quella in oro Ma io ti metterò quella in diamante perché fa figo Sì ragazzi Li metterò l'armatura in diamante Vediamo un attimino come sta È bellissimo Allora facciamo una cosa Adesso ho qua del filo e delle slime ball E vado a craftare una corda Che si fa così non l'abbiamo mai fatta Ok E con questa corda vado a legare No Destriero Stai calmo Ok Vado a legare Il cavallo A una stacionata Ok Per adesso ne abbiamo uno solo Quindi lo tengo qua Che anche appunto se siamo nel nether È un luogo sicuro E adesso in questo episodio Dovremmo andare a fare un paio di cose ragazzi Parliamo di quello che faremo in questo episodio Allora prima di tutto penso che uccideremo un ghast Perché lo sento che qua vicino Ok Si è allontanato Fatto molto bene Comunque Andremo a cercare la giungla Cosa che dobbiamo fare nell'ultimo video Ma non l'abbiamo fatto Quindi Direi che appunto io Mi indirizzerò Verso la zona dove ci sono i cavalli Andrò a prenderne ancora uno Logicamente farò questa cosa off camera Perché Non penso che Io che cammino sia Tutto questo spasso per voi Quindi Io direi che Faccio questo piccolo stacco Adesso penso che sarà notte Quindi andrò a dormire Faccio questo piccolo stacco Vado nella prateria Dei cavalli E E niente Ci vediamo tra poco Ok ragazzi Rieccoci E ho trovato un cavallo Ma è Marcio Veramente va pienissimo sto cavallo Ti posso anche uccidere Se ti ucciderò Hai capito Bene Perché mi sembra la tua pelle Esatto Qua ce ne sono altri Non sono quelli dell'altra volta Lo so Però ho trovato questi Cioè Accontentiamoci un po' Vediamo un attimo Te mi sembri già più veloce Del precedente Dove sei? Cavallo nero Ecco qua Dai Su Bravo Fammi i cuoricini Sella per te Armatura Sì Te vai già più veloce Mi accontento di te per ora Eh Oddio santo Dove sono gli altri cavalli Il problema Perché voglio trovare Il ciucco Voglio trovare Il maledetto ciucco Ma non lo trovo Il maledetto ciucco Perché? Dov'è il maledetto ciucco? Io devo avere Il maledetto ciucco Non lo troverò mai Vabbè Ragazzi Eeeh Uh Qua ci sono delle zucche Non so bene Dove mi trovo Perché Penso di aver Oddio Penso di aver sbagliato qualcosa Penso di essermi spostato Qualche blocco Più in là Eeeh Comunque adesso che ho un cavallo Mi muoverò molto più velocemente Poi Molte cose si possono fare Anche a cavallo Come appunto Raccogliere le zucche Cioè E' come se fossimo Giocatori Sempre normali Ma Solo più veloci E a quattro zampe E niente ragazzi Direi che quindi Adesso farò un altro piccolo stacco Perché intanto devo comunque Cercare La giungla E devo comunque cercare anche Eeeh Il mulo Il mulo L'asino Chiamiamolo come volete Eeeh E niente ragazzi Quindi faccio subito Un altro piccolo stacco Questo cavallo Viaggia già abbastanza Ma si dai mi accontento Adesso Eeeh Vediamo un attimo Quali velocità raggiunge Vediamo di Cercare un pochettino Qualcosa di interessante E appena trovo qualcosa Appunto Riapro la registrazione Sì ragazzi Direi che ho trovato Qualcosa interessante Un'altra Eeeh Mesa Che figata Ce ne sono Non pensavo Cioè pensavo fosse Molto più raro Come bioma Invece no Ne abbiamo già trovata Un'altra E beh Benvenga Eeeh Sembra proprio di essere Nel deserto Guardate che figata Comunque Non è Non è ancora La giungla Che cercavamo Cioè abbiamo trovato La mesa Non troviamo una giungla Che è un bioma Che dovrebbe essere Abbastanza comune Vabbè Ok ragazzi Eccoci ho trovato Una pianura Dove sono veramente Molti cavalli Qua dietro ce ne è degli altri Guardate un po' Sono anche fighissimi Eeeh Qua ce ne sono altri Che sono anche carini Vediamo un attimo Di qua se ce ne sono altri Uh si ce ne è Attenzione Io vorrei però Un mulo Dal che c'è un mulo Per favore Please Un mulo Un mulo Non è che chiedo Chissà cosa Chiedo Un mulo Un mulo Qua ci sono un sacco Di cavalli Ragazzi Sono veramente tanti Guardate Il mulo è Là sotto c'è una miniera Ragazzi Lì sotto C'è No Oddio Oddio Dove cavolo Oh cavolo Oh cavolo Meno male Che avevo Lasciato Avevo letto lì Altrimenti venivo Spawnato a casa Oh mio dio Ragazzi Oh mio dio Là c'è una miniera Ci sono volato Dritto dentro Ho perso tutta la roba Eeeh Devo andare A riprendermela Allora stiamo calmi Stiamo calmi Un secondo Qua probabilmente Ci saranno anche Dei muli Cioè probabilmente Molto probabilmente Perché comunque Un mulo Eccolo lì Si Si Un altro Fantastico Fantastico Una casa della strega pure C'è di tutto C'è di tutto ragazzi Mamma mia Allora stiamo calmi Prima di tutto devo trovare Il mio cavallo Che è là Perfetto Perché qua c'è una pezza di pelle Non lo so Comunque cavallo Te Sei volato dentro Stai Fermo Per carità di dio Per carità Stai fermo Ok si è fatto male Anche lui Sembra Aia Ok Tutta la mia roba Si Tutta la mia roba Ok 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 Allora Con calma Eeeh Fatemi Prendere la roba Che ha sto tizio qua Fatemi prendere La roba che c'è qua sotto Ok Fatemi Riorganizzare un secondo Alimentare Tanto adesso risalivo Con l'acqua A destro Uno di quei Uno di quei stupidi Muli E ci vediamo Tra poco Abbiamo poi andato di culo E qua non ci sono dei mob Dai 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 Forza Ma sei testardo Come un mulo Allora Veramente Ragazzi Eccoci Sono qualche Sono risalito Nello stacco Ho preso tutto il ferro Che c'era là sotto Perché ce n'era veramente Molto Guardate Adesso vi faccio vedere Appena riesco a Domare questo Stupido mulo Dai Dai mulo Io credo in te Forza Dai Dai Forza Il mulo è veramente Molto più difficile Di stare rispetto al cavallo Infatti è anche più raro Però finalmente Ci abbiamo fatta Vediamo un po' Sì direi di sì Ok Adesso Andrà lento Ve lo prometto Già subito Là Ci sarà una strega Non lo so E non mi interessa Anche perché non si trovano Ricompense di nessun genere Nella casa della strega Quindi la lascio là Però ci faccio uno screenshot Ci faccio uno screenshot Ok Scendiamo dal mulo Mulo Guardami Questo qua sarà tipo Lo screenshot The best Dai Tira sulla testa Ok Tac Ok Perfetto Allora Ehm Avevo trovato un altro mulo Prima Ah eccolo lì Ok eccolo lì Calmi Vediamo attivino Quello lì Quanti cuori ha Ok Fammi salire su Oddio Quanti cuori ha Oddio Oddio Con la U Con la U Ragazzi Che cavolo è No ma avete Scusami ma Te al confronto Sei proprio una cacca Ma hai visto Avete visto Quanti ne ha È incredibile No no dove sei Calma vieni qua Tu sei mio Vai pure più lento Ma vabbè Adesso ragazzi Direi che La giungla Non l'abbiamo ancora trovata Beh ovviamente Perché non Sta giungla Sembra Di cercare Il micelio È più facile Trovare il micelio Sto punto ragazzi Perché non la stiamo Veramente trovando E niente ragazzi Sono costretto A fare un altro stacco Per appunto Cercare Di andare A trovare qualcos'altro Ah appunto Prima di Ferossi Ok ragazzi Non riesco a parlare Prima però Di andare a farlo stacco Vi faccio vedere Che se io faccio Una cesta Beh lo sapevate Sicuramente Comunque faccio una cesta Clicco con Shift sul mulo No Col tasto destro Ok senza shift Solo destro E lì comparo la cesta Ho un inventario Anche Nella Diciamo Nelle Nel marsupio Del mulo Questa è una cosa epica Questa viene Cattelogata Come cosa epica Nella mia mente E la c'è il mio letto Perfetto Il mio letto Perfetto Ho pure fatto la rima Ok Adesso Nel mio letto Perfetto Ci butto dentro Un paio di cose Tipo l'armatura Cioè nel mio mulo C'è proprio dentro Il mulo Li apro la bocca Ci metto dentro Sta roba qua Un accordo Ma un accordo Mi serve Cosa ci butto Uno stack di pietra Uno stack di sta roba qua Ehm Basta Ma si dai basta Ci butto dentro questo Basta Basta così Mi serve anche l'arco Perché probabilmente Sa fare la notte Tra poco No Come l'ho detto Comunque ragazzi Adesso Mi incammino verso casa E poi Vediamo cosa fare Per questa giungla Dai muoviti Ammazza se sei lento Ok ragazzi Eccoci Ehm Ho una bella notizia E una brutta notizia Questa è la bella notizia Come vedete Ho trovato dei cani Dai cagnolino Lo so Che vuoi diventare mio amico Grazie Anche tu vuoi diventare mio amico Vero? Sì Lo so Che vuoi diventare mio amico Perfetto Comunque Questa canina è la bella notizia La brutta notizia qual è? Mi son perso Sì Mi sono perso Ehm Non so come Non so dove sono Mi sono perso Ehm Sto guardando Le coordinate Ma Mi sono proprio perso Ragazzi C'è poco da dire Mi sono perso Ehm Non è come perdersi in caverna Ehm Per perdersi diciamo Nel mondo In superficie Ehm Leggermente Più difficile Ehm Come faccio? I cani mi seguono Nel frattempo Sì Eccellente Oddio Oddio ragazzi Ehm Non ho intenzione di morire Assolutamente 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 No Come faccio? No no Io qua non sono mai stato Ragazzi Devo tornare indietro Mi sa Mi sa che mi tocca Tornare indietro Sì Cerco di tornare indietro E rimettermi Sui miei passi Devo aver sbagliato qualcosa Ma non so cosa ho sbagliato Oddio Guardate qua dove sono Ragazzi No io ormai qua sto generando terre nuove Già da un bel po' Sì sì Sto generando terre nuove Sicuramente Indubbiamente Oddio Oddio Come facciamo qua ragazzi? Questo potrebbe rivelarsi Un bel casino Devo riflettere un secondo Allora Credo che Tornerò Poi altri cavalli Ma sì Tanto per cambiare Tornerò indietro In questa direzione E vedrò Che cosa riesco a fare Qua è pieno di cavalli I cavalli li trovo Ovunque adesso Ora che c'è Ora che ho quello che mi serve Lo trovo Come se fosse Non so cosa Vabbè Qua mi sento abbastanza Arre del mondo Ho due cani E un mulo E non so dove andare Vabbè ragazzi Faccio un piccolo stacco Perché tanto qua C'è il posto di starci Anche un'ora Per cercare di Ritrovare la strada Dalla faccia del tempo Che manca E niente ragazzi Quindi faccio questo Altro stacco Non so questo episodio È pieno di stacchi Però l'ho fatto così Perché viaggiare Altrimenti sarebbe noioso E niente Ci vediamo tra poco ragazzi Ok ragazzi Eccoci Sono tornato a casa Qua ho messo i cani E ho messo Momentaneamente Il muro nel nether Nel giardino Con il cavallo Ragazzi Cosa vi posso dire Se non Che appunto Questo episodio Come molti È stato caratterizzato Da Tanti stacchi Vi chiedo scusa Per questo Perché alcuni Potrebbe dar fastidio Però credete Mi sarebbe stato peggio Se non avessi fatto Tutti questi tagli Sarebbe venuto Un video di un'ora Dove io camminavo E cavalcavo il mulo Per Per minuti 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 Niente ragazzi Qua continuerò Con i miei soliti Lavori off camera Ma come vedete Ho già di nuovo pronto Ehm Con me Un altro Ehm Come si chiama Un altro Spazio Cioè altro spazio In inventario Perché sto per ripartire Per la terza spedizione Che non sarà In questo episodio Sarà nella prossima Dove Cercherò di aprire Il video Direttamente Nella giungla Così Dovevi annoiare Comunque ragazzi Io come al solito Vi invito a lasciare un like Perché youtube è stronzo A commentare Dicendo cosa pensate Di questo video Comunque ho trovato Cani Cavalli Cioè muli Cavalli Ehm Mignere Ho trovato di tutto In questo video È stato abbastanza carino A mio parere Diamo anche un'occhiata Alla fam di polli Anche se penso Uh no Invece è andato avanti Ehm Niente ragazzi Ditemi un pochettino Cosa ne pensate Vi invito come al solito A lasciare un mi piace Alla pagina facebook Ehm A condividere il video A metterci mi piace Commentare Iscrivervi Le solite cose Quindi Io ragazzi Come al solito Vi ringrazio Spero che il video Vi sia piaciuto E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti